Buongiorno e benvenuti a questa serie stampa di oggi, domenica 9 agosto. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Intanto è incredibile il Corriere della Sera, cioè del giornale unico del virus ne sono rimasti alcuni pezzi. Uno di questi, oltre ai telegiornali che sono lì, che stanno a metterci una paura come se ci fossimo nel pieno della pandemia, l'altro è il Corriere della Sera. Io non so ogni tanto, veramente io non so la linea del Corriere. Se questa, vabbè, insomma, allarmismo allo stato puro. Vi dico il titolo di oggi sul Corriere della Sera, la prima pagina del principale giornale italiano, tra l'altro è l'unico giornale che titola così, poi vedremo gli estremi, dall'altra parte secondo me è molto più, diciamo, interessante e libero. Ma comunque partiamo dal Corriere della Sera. Virus allarme giovani. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Virus allarme giovani. L'apertura del Corriere della Sera è che i contagi decuplicati sugli under 19. Sembra di vedere quel film Contagium, in cui i ragazzini muoiono, cosa che ovviamente non avviene, perché oggi i contagi in realtà vogliono dire che si è positivi, però da essere positivi ad essere ammalati ne passa qualche cosa. Lo dice Porro, lo dice un negazionista, sempre per citare Ricolfi, o lo dice forse lo stesso Corriere della Sera. Lo dice lo stesso Corriere della Sera. Quindi ricordatevi bene, prima pagina del Corriere della Sera. Virus allarme giovani decuplicati, contagi sugli under 19. Poi vai a leggere, pagina 2, pagina 3, due pagine dedicate a questo allarme. C'è un taglio basso, cioè un articolo che intervista Ippolito dello Spallanzani, uno degli ospedali che sperimenterà il vaccino a novembre per 90 persone. Ippolito dice che il fatto che ci siano contagi tra i giovani vuol dire un minor rischio di sovraccarico dei servizi sanitari. Avete capito cosa dice Ippolito? Minor rischio di sovraccarico dei servizi sanitari, perché i sintomi sono lievi, non più lievi, sono lievi e non si ammalano. Cioè il fatto che lo prendano i giovani è un dato positivo, dice Ippolito, perché il fatto che siano positivi non contagia e non comporta nulla. Il fatto che ci siano decuplicati i giovani, a cui non gli vogliamo far fare la mobida, a cui non gli vogliamo fare andare in discoteca. Sono contento che riprendano le fiere, c'è oggi un'intervista di Pazzali sulla fiera di Milano e sono contento che riprendano con una pagina intera e parlano delle crociere, perché il mondo muore se non si fanno queste cose. Ma certo, a leggere il Corriere della Sera siamo morti otto volte, tranne loro che evidentemente su questi allarmismi godono come ricci. Sulla Libero c'è l'intervista a Remuzzi, uno dei più grandi scienziati, virologi italiani, uno dei pochi che ha qualche pubblicazione scientifica. Cosa dice? Il Covid è sotto controllo ed è l'apertura di Libero, cioè esattamente l'opposto di quello che ci farebbe intendere il Corriere della Sera e dice che i positivi oggi spesso non si ammalano, i positivi spesso oggi non si ammalano e poi ovviamente tu vai a leggere il dato sui positivi e vai a vedere che oggi peraltro i positivi sono 348, quindi molto meno rispetto ai giorni scorsi. Quindi siccome il Corriere non poteva titolare sull'aumento dei positivi, sui nuovi focolai, beh, su che cosa titola? Sull'allarme giovani decuplicati. Questi sono veramente fuori di testa. Poi dopo voglio capire Cairo come troverà la sua pubblicità. Moriamo tutti e facciamo prima, o forse proprio per questo, perché pensa che il giornale non lo terrà in mano ancora per tanto tempo. La Verità invece utilizza l'altro suo cavallo di battaglia, e cioè un positivo su due, uno su tre è straniero. Il 40% dei nuovi contagi arriva dall'estero, dice il Presidente del Piemonte Giro, e più o meno la stessa cosa avverrà in Veneto. Positivi che non vuol dire ammalati, però se uno dovesse pensare che c'è un'emergenza è quella dicono, e con qualche ragione, i giornali di destra, ma ragazzi se c'è un'emergenza non facciamo venire questi immigrati che vengono come se fosse tutto aperto. Poi il secondo tema di giornata, che ovviamente non trattano i giornaloni, ma oggi forse il più forte, resta comunque il messaggero, sono le bugie di Conte. Vedete, lì c'è questa cosa che in realtà il giornale la prende politicamente perché dice che il Conte ha i giorni contati, io non penso che abbia i giorni contati perché in realtà l'opposizione qua non mi sembra che sia quella dell'opposizione, cioè si fidano di Renzi, cioè voi pensate che un governo possa cadere perché Renzi possa sfilarsi dalla maggioranza e quindi essere raso al suolo il suo 2-3% che prenderebbe a dare, ma qualcuno può credere che questa sia il, cioè che la maggioranza cada su Renzi, devo dire la verità, Renzi sarà aggrappato e pensa a farci diventare ministro Laboschi più che a far cadere il governo, ma queste sono considerazioni personali che vi lascio nel tempo che trovano come tutte le considerazioni del governo più pazzo del mondo, anche se Sallusti dice una cosa sul suo giornale, dice che Conte ha gli sgoccioli, poi parleremo delle bugie di Conte, ma dice un'altra cosa, vi ricordate un anno fa il Papete, lui che si dimise Salvini, tutti che lo criticano, ha fatto bene, ha fatto male, lui dice tesi Sallusti, Salvini ha fatto bene a far cadere il governo Conte 1 e sapete perché? Perché siccome la forza elettorale era molto inferiore a quella del Movimento 5 Stelle sarebbe stato l'utile, idiota, cioè la mosca sopra il naso dell'asino, come direbbe Gramsci o qualcuno come lui, che pretendeva di dare lui la direzione all'asino, questa è la tesi di Sallusti oggi sul giornale, ma è una tesi che in realtà dice il vero errore, Salvini l'ha fatto dopo aver fatto cadere il governo perché lì avrebbe dovuto guidare il centrodestra e doveva cercare di allargare il centrodestra più che ridurlo a consenso elettorale del suo movimento che peraltro è diminuito, quello che è certo è che il movimento del centrodestra è anche difficile, però c'è un gran casino e comunque i leader si vedono nel casino, adesso la Meloni sale, Salvini un po' scende, Forza Italia sta sempre lì tra il 6 e il 7%, insomma non mi sembra che il centrodestra sia in una forma smagliante, comunque non c'è un'alternativa di quella che dice cazzo adesso vanno giù questi e ne mettiamo altri, chi? Mettiamo il centrodestra di Salvini che non vuole il MES o il centrodestra di Berlusconi che vuole il MES, vediamo il centrodestra, insomma avete capito, il centrodestra delle Aronzulli che oggi fa un'intervista in cui dice bene il fatto che l'aborto sia più semplice con la pillola antiabortiva o il centrodestra di Storace, di Enne che oggi sul tempo dice gli aborti in un moment, dicendo che è facile togliersi lo schiribizzo dell'aborto, basta una pillolina, insomma il centrodestra è tutte queste robe qui, non che quello di sinistra sia più compatto, ma su alcuni valori di fondo come si è visto, oggi lo dice Borgonovo, quando si tratta di parlare per esempio di aborto, Movimento 5 Stelle e PD sono allineati e ci mettono un secondo a mettersi d'accordo. Andiamo avanti sulle bugie di Conte che mi sembrano una cosa più interessante, la questione fondamentale è la bugia e questo è il punto che secondo me non si riesce a cogliere, solo il messaggero l'ha colta, perché l'ha colta? Perché cosa succede? Che il Presidente del Consiglio va dai magistrati, dai PM a Brescia, Bergamo, scusatemi, e dice loro che il 12 giugno dice non ho visto il documento del Comitato Tecnico Scientifico del 3 marzo, quel documento tecnico scientifico del 3 marzo diceva che si dovevano fare delle zone rosse nelle zone lombarde che avevano i primi contagi. In quella riunione del CTS del 3 marzo hanno partecipato anche Fontana, il suo direttore, scusatemi, Gallera, il suo direttore generale e hanno detto guardate che qua è un gran casino, il CTS dice un gran casino, fate la zona rossa, manda questo verbale a Conte, Conte il 12 giugno dice PM non l'ho mai visto, se non che poi dopo un'altra intervista dice, ah sì l'ho visto ma l'ho visto il 5, allora toc toc, travaglio e grandi difensori di Conte, Conte ha detto una bugia, poi dopo io, vedete lo scuso Conte sulla questione, poteva fare la zona rossa, non poteva farla, poteva farla prima, ha fatto male il lockdown, ha fatto bene il lockdown, era un tale casino che secondo me era difficile fare la cosa giusta, ma il punto è che quello lì non ci facesse il pretino, l'avvocatino di Foggia che non sbaglia un colpo. Ragazzi stiamo parlando di Conte e Casalino, prendiamoci sul serio, ancora stiamo lì a pensare, ha detto giusto, questo si prese, i prichi, parla bene, si toglie gli occali, c'è la otto pochette, c'è 12 amanti, ma oh, no non c'è la 12 amanti, ma quello che voglio dire è, noi diamo credibilità a questo qui, come se fosse una specie di Aldo Moro della politica italiana degli anni zero, ragazzi questa ha detto una minchiata, ha detto i PM, bisognerebbe farglielo capire al fatto che oggi fa due pagine di fact checking, fatto, fammene una di pagina, anzi dieci righe, fatto, fammi sto fact fact checking, ha detto ai magistrati che non ha visto quel verbale il 12 giugno, Conte, sì o no? E se ha detto che non l'ha visto, perché poi dice che l'ha visto quel verbale ma l'ha visto il 5 di marzo? Ragazzi è una bugia mica da ridere, perché se le avessero isolate quelle zone rosse forse sarebbe andato un po' diversamente e non potrebbe fare il figo del bigoncio dicendo che il nostro è il modello migliore del mondo, lui è oggi Speranza, abbiamo salvato l'Italia, dice il ministro Speranza, abbiamo chiudendo tutta l'Italia l'abbiamo salvata, dice Speranza, perché qui vedete non è che si può dare sempre per vero quello che dicono questi soltanto perché stanno a gestire l'emergenza, possono anche averla gestita male l'emergenza, non tanto per fargli un processo ma per evitare di farsi governare da questi incompetenti per i prossimi anni. Intervista di Speranza sulla questione di Conte, vi dico il più preciso e puntuale oggi è il messaggero, poi c'è il fatto che fa questo fact checking ridicolo, poi c'è Zurlo che in realtà risponde al fatto perché dice ragazzi guardate che quelli del fatto tendono a dire guardate che è colpa delle regioni e non di Conte, questa è la teoria del fatto, come se le regioni, insomma c'è anche un bambino piccolo potesse governare i carabinieri, ma dice Zurlo sul giornale guardate che il 27 di febbraio il governo fa un decreto per cui avoca se tutti quanti i poteri, certo poi le regioni potevano fare qualcosa, ma in realtà in maniera più che concorrente con quello che doveva fare lo Stato, quindi il 27 febbraio c'è il decreto che dice facciamo tutto noi, il 3 gli dicono chiudete quelle zone lombarde, il 5 lui le vede a sentire lui, il 12 giugno dice una bugia e ancora qua ce la stiamo a menà con il grande grande salvatore della patria, diciamo che è un cazzone che ha l'aria molto credibile e ci fa credere che lui abbia fatto tutto correttamente seguendo le procedure, poi chi se ne frega delle procedure, anzi io devo dire che Fontana se avesse seguito meno le procedure così come meno le ha seguite Zaia, probabilmente oggi avremo meno pasticci, anche se poi si è visto come è sotto l'occhio del ciclone per qualsiasi cosa per cui non sia benché proceduralizzata come la questione dei camici. Beh poi sapete questo è il paese, ne parlano alcuni giornali in cui il presidente della commissione delle politiche europee è un signore che si chiama Sergio Battelli che ha la terza media, ha fatto per dieci anni il commesso che va bene in un negozio di animali, meglio che molti altri grillini che non hanno proprio mai fatto nulla della vita, questo per dieci anni ha fatto il commesso, uno che per dieci anni fa il commesso per quanto mi riguarda ha lavorato, per quanto mi riguarda è molto meglio di alcuni professori universitari che non hanno neanche la più palla di idea di che cosa vuol dire portarsi a casa 800 euro al mese, quindi questo razzismo nei confronti di Battelli che ha fatto per dieci anni il commesso è un razzismo orrendo da parte di questi professoroni che dicono quello non ha mai lavorato, no quello ha fatto dieci anni il commesso, meglio di voi che siete entrati magari a ventitré anni in un concorso universitario e non sapete che cacchio vuol dire guadagnarsi 800 euro, quindi chapeau Battelli, ma appunto non è chapeau Battelli e la critica che tutti i giornali gli est dicono l'incompetenza di Battelli che dovrà gestire i soldi europei, perché Battelli non dovrà gestire i soldi europei, è chiaro, il problema non sono i Battelli, e questa è la cosa che mi fa impazzire, il problema è gli avvocati di provincia, è il Casalino laureato in ingegneria, perché laureato in ingegneria, Casalino, e beh sì siccome è laureato in ingegneria sta a parlare di un mostro, Battelli siccome ha fatto il commesso, allora preferite uno che ha fatto il grande fratello e l'ingegnere o uno che ha fatto la terza media e ha fatto il commesso, ma io guardate sapete che cosa lo dico da destra? Io forse preferisco Battelli, poi certo che la nostra classe politica si è ridotta a scegliere tra Battelli e Casalino probabilmente ce ne passa un mondo, ma la giustificazione razziale, per cui un commesso che si è occupato di cani sarebbe un cretino e non può fare il presidente della commissione, chiaro, questo prima faceva il presidente della commissione cultura, forse magari non ci metti uno con la terza media a fare il presidente della commissione cultura, per carità, però insomma avete capito quello che intendo, spero, io ho grande rispetto per quelli che si sono fatti un mazzo così, dei ragazzini e non hanno potuto lavorare. Detto questo andiamo sulle questioni di grandi professori, grandi economisti, gualtieri, oggi Repubblica così taglieremo le tasse e ridurremo l'IRPEF nel 2021 e l'assegno unico per i figli, due cose che sento da circa 25 anni tutti i governi, staremo a vedere quello che è successo e che hanno dato migliaia di bonus, oggi ragazzi anche questa cosa dell'opposizione tutti a dire troppi bonus, troppi bonus, oggi De Borto gli ha fatto l'ennesimo pezzo dopo una settimana spiegando che questo è stato da bonus e non c'è nessuna prospettiva, non c'è nessun progetto, l'ho letto da Cottarelli, l'ho letto sul giornale, l'abbiamo scritto tutto, che due palle, cerchiamo di fare delle critiche, abbiamo capito che questi fanno solo le marchette, l'unico pezzo buono oggi su questo mi sembra quello di Brunetta, che mi sembra molto più circostanziato, in cui dice una cosa molto semplice, i 100 miliardi che hanno speso e che hanno portato a casa servono per conquistare il consenso e lo fa capire in una pagina e mezzo, potrebbe essere un po' più stringato sul giornale, ottimo anche Giannini, perché Giannini prende una cosa di questo decreto, cioè gli aiuti al sud e sapete come dice, gli aiuti al sud di questo decreto sono a parziale risarcimento dell'assurdo lockdown che ha fatto il governo anche nei confronti del sud quando non c'era bisogno, interpretazione se volete cervellotica, ma molto interessante oggi di Giannini, direttore della stampa. Ultima notizia su Beirut, pensavo più interessante Molinari che si occupa sempre di Medio Oriente, in realtà non vale la pena leggerlo perché è semplicemente una descrizione di quello che è successo e che sta succedendo nel paese dei Cedri, interessante invece la lettura di Cremonesi contro la piazza contro gli Hezbollah, cioè contro la fazione militare considerata terrorista da gran parte dell'Europa che governa oggi il Libano, il popolo non vuole più essere definito colonia iraniana. Infine straordinario i cinque parlamentari che hanno chiesto i 600 euro all'Inps, cioè questi si rendono 12.000 euro e durante il lockdown siccome abbiamo potuto lavorare hanno chiesto come una partita IVA qualsiasi, i 600 euro e li hanno ottenuti dall'Inps, fantastico. I nomi non ci sono, la notizia da Repubblica ma vedrete che come Cani e Segugi andremo a cercare i nomi e i cognomi perché l'anticasta se riguarda i grillini ci fa godere come dei ricci. Purtroppo è una, come possiamo dire, è una triste ricompensa rispetto a un mondo per cui il merito appunto non si premia. Ciao!